Ciao, come stai? Benvenuti ancora una volta alla nostra programmazione speciale su Carigma Music. Oggi siamo completamente protetti con misure minime di biosicurezza a causa della pandemia? Allora che succede? Che c'è? Potete aspettare che finisca l'amico qui che invita all'introduzione? Non so cosa, così puoi venire da me più tardi. Beh, ascolto anche la mia musica, mantenete le distanze sociali. Adesso qui con la mascotte. È impossibile. No, ma notte le distanze. Oh, che cosa si succede? Nista parte, ascolto anche il soggetto. P synti la mia musica solo di fare un socio che sennate La distancia social è impossibile